Ciao a tutti ragazzi e bentornati da E-Teleparks Eccoci qua con questo nuovissimo video in cui è un po' fuori tema dagli altri Vi farò vedere gli easter eggs, suppongo si dica così, non sono un mago in inglese purtroppo Che ho trovato all'interno di The Crew E vi posso assicurare che ci è voluto parecchio Partiamo subito con il primo easter egg che è, ebbene si, un rarissimo esemplare di Bigfoot Eccolo qua, lo vediamo nel suo habitat naturale Crattarsi le ascelle e soffiarsi il naso Sono riuscito dopo parecchio tempo, devo dire, a trovarlo Infatti ho provato a contattarlo via telefono ma purtroppo non ne possiede uno Ho provato anche con l'indirizzo di casa E infine sono riuscito a rintracciarlo Eccolo qua, guardiamolo qui da vicino Bellissimo Sembra quasi Elvis Presley Partiamo subito all'inseguimento e Ragazzi qui vi schiantate delle risate Eccolo qua come corre In stile Balena arenata Lo ammetto, ci sono stato quasi più di un'ora e mezzo A rincorrere perché sinceramente Bene ragazzi via, passiamo avanti perché ci sono stato troppo Andiamo subito al secondo che è l'orca Ecco qua, tentavo il vano di salire sopra quel pontile Infatti come potete vedere Sono riuscito a trovare quest'orca Nel bel mezzo del mare Poi infine sono riuscito anche ad ammirarla più da vicino Via Ve la zoomerò Eccola qua Confido di esserci stato per tre giorni di fila A guardare senza dormire con il cibo Comunque Andiamo al terzo easter egg che è Katy Perry Infatti sono riuscito a trovare nel bel mezzo Di The Crew Un cartello con Avete già capito quale canzone è? Perfetto Passiamo avanti al quarto easter egg Ovvero l'area 51 La famosissima area 51 Come potete vedere Area ristretta da Non oltrepassare ma Ovviamente È la prima cosa che faccio Ho saltato subito questo aereo Ho distrutto Trovatelo nel bel mezzo dell'area 51 È bello comunque ancora da venire Eccoci qua Ho riaggiunto finalmente la struttura segreta In cui ovviamente che cosa possono contenere? Oltre a botti Famosissime Botti Della l'area 51 Pezzi di aereo In cui Subito Presa in pieno Perfetto Ecco là Non so se avete avuto modo Ma Eccolo là Il famosissimo UFO Atterrato Sulla terra Quindi ragazzi Anche su The Crew Ci sono gli alieni Chissà che magari Non ne incontrerò Qualche d'uno La prossima volta Che ci passi Lo ammetto Volevo andarlo a vedere da più vicino Ma purtroppo Essendo all'area 51 Non ci fanno entrare Eh beh niente Alla fine mi sono arreso Via Non c'era niente da fare Anche qui Ore e ore Per cercare Una scappatoria Per entrarci Niente Un secondo ingresso Niente Sono stati cattivi Andiamo avanti Quinto easter eggs Ovvero Easter egg Ovvero Lo shuttle Infatti sono riuscito a trovare Un punto della mappa In cui c'è C'è un video dimostrativo In cui Decolla proprio uno shuttle Eccolo qua Questo lo lascio in un momento Per cercare E-15 14 13 13 15 16 9 8 7 6 6 5 4 4 4 5 5 6 6 8 9 8 9 10 9 8 7 6 6 6 4 9 7 8 8 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 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 16 16 16 15 16 18 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 fin qui, finchè a un certo punto non mi sono girato a destra, eccolo lì, lo vedete? Perfetto, sì, e come potete vedere volevo scappare, poi ho detto no, però aspetta, vediamo, magari non è morto, semplicemente sta dormendo, e invece era lì in mezzo al cespuglio, proprio, sì, eccolo lì, ho detto vediamo un po' se si sveglia passandogli sopra, quindi l'ho schiacciato, ora era morto, quindi prima non era morto, magari stava riposando, però purtroppo non ci ho pensato, quindi se cercheranno, mi raccomando non dite che sono stato io, se cercheranno chi è stato, ok, la scena è un po' inquietante, andiamo avanti, settimo easter egg, l'unicorno, settimo ed ultimo, l'ho lasciato per ultimo perché comunque trovare un unicorno nel bel mezzo della foresta, mentre andavo in giro per la foresta con i miei mezzi dal ride, ecco, ah c'è un cavallo, guarda, un bel cavallo bianco, poi mi sono accorto che invece era un unicorno, eccolo qua, infatti, famosissimi unicorni di The Crew ragazzi, come al solito, ci sono stato tre ore di seguito a tentare di prenderlo, di inseguirlo ma, purtroppo, era più veloce beh, ragazzi, direi che per questo video è tutto, come avete visto, gli sviluppatori del gioco, insomma, si sono sbizzarriti abbastanza, penso ci ne siano anche altri di easter egg ma questi sono gli unici che ho trovato, in caso se ci sono, ve li farò vedere, farò un altro bellissimo video, fatemi sapere se vi è piaciuto e ciao ciao a tutti da i Telepacks Ciao a tutti